Il 2020 potrebbe essere l'anno della svolta per la vicenda delle scuole fantasma di via Montebello a Casteggio che si trascina ormai da oltre un decennio. Dopo una lunghissima trattativa il sindaco attuale Lorenzo Vigo ha affermato infatti di aver ormai trovato la quadra con i soggetti coinvolti ovvero i costruttori e le società di leasing che avevano finanziato l'operazione avviata nel 2007 che prevedeva la creazione di due istituti professionali con il comune che si sarebbe impegnato a versare circa 200.000 euro all'anno di canone. Nella vicenda era stata interessata attraverso un esposto anche la Corte dei Conti anche se al momento non si hanno notizie di provvedimenti a riguardo. Una questione dolorosa e potenzialmente esplosiva per i conti pubblici questa a cui forse si troverà finalmente rimedio con l'acquisizione da parte del comune delle strutture e la loro riconversione a scuole pubbliche con l'ipotesi di una riallocazione di tutti gli altri istituti primarie e secondarie anche se su questo ultimo aspetto è ancora tutto da definire. Sono più di dieci anni che si parla di questa situazione come si sa ormai ci sono queste strutture che sono state costruite nel 2007 2008 che dovevano essere destinate a una scuola superiore ma che in realtà oggi non hanno occupato nessun tipo di iniziativa e soprattutto pende sul comune una decisione secondo me scellerata di affitto a circa 300 mila euro all'anno per dieci anni. L'accordo nuovo che in questi anni perché sono già anni che stiamo lavorando con banche e proprietari è un accordo che guarda non tanto l'affitto ma quanto l'acquisizione proprio della struttura. Abbiamo già i soldi diciamo così come comune perché avevamo aperto un mutuo con il credito sportivo per appunto l'acquisizione della struttura sportiva della palestra che comprende anche già i lavori di manutenzione messa in opera della palestra poi per l'utilizzo già per le associazioni sportive oltre che per le scuole. È un problema annoso che va avanti da tempo dobbiamo cercare di sistemarlo perché altrimenti il rischio vero economico per il comune di dover pagare 300 mila euro all'anno potrebbe metterci in sera difficoltà. Spesso si parla ma si trasferiscono le scuole è giusto o sbagliato? Di fatto questa amministrazione non ha mai questa intendo quella anche di cui ho fatto parte nei dieci anni precedenti insieme a Lorenzo Callegari non ha mai immaginato di costruire un nuovo plesso scolastico. L'abbiamo trovato e soprattutto abbiamo trovato un vincolo economico molto pericoloso per il comune quindi di fatto il lavoro è quello di salvaguardare prima di tutto le casse comunali e poi immaginare uno sviluppo anche per l'area.